Voci destabilizzanti minano la campagna elettorale a San Marsano sul Sarno come altrove, ma l'ex sindaco ed ex sottosegretario attuale presidente dell'autorità portuale Andrea Annunziata non si lascia intimorire, conferma la sua volontà di mettere la sua esperienza e le sue idee di rinascita a disposizione della comunità di San Marsano sul Sarno. L'idea è quella di una politica di territorio, immaginando un giorno di riunire i comuni dell'agro in un unico consiglio comunale dei sindaci del territorio. Avrebbe voluto aggregare le forze in campo in un unico progetto politico, ma questo non è avvenuto e da allora andrà avanti con il suo gruppo che lo ha voluto candidato a sindaco del piccolo centro dell'agro. Sono stato sollecitato da tanti amici, da tanti che si occupano di politica e anche da tanti che invece guardano a una possibilità di venire fuori da una crisi molto profonda nella quale è calato il comune. Ho sentito il dovere di mettermi a disposizione in qualsiasi ruolo, anche non quello di sindaco, poi alla fine si è trovata una sintesi, gli amici hanno voluto indicarmi come sindaco, io sono orgoglioso di questa indicazione, al di là dei ruoli che ho potuto rivestire nella mia vita, perché quella di sindaco in quel comune è stata quella che mi ha dato più soddisfazione e con la quale ho potuto dare tanto. Sono partito da San Marzano per cui devo tanto a quel paese e vederlo nello stato in cui si trova oggi veramente ti fa male. Ecco per quale motivo la disponibilità. Io però fin dal primo momento ho detto sto a disposizione, però cerchiamo in qualsiasi ruolo sto a disposizione, cerchiamo però di ridurre quanto più i contrasti. È una barca che è difficilmente da pilotare, da guidare e se si rema ognuno per conto proprio sarà più difficile. Allora pensavo di poter mettere su insieme a tanti altri amici una possibilità per fare presto e bene in tempi rapidi. Ciò non è avvenuto e sono venuti fuori tanti problemi che pensavo superati da una maturità diversa, almeno da chi deve guidare certi processi. Invece no, il semplice fatto di poter ascoltare che non avrei fatto più il sindaco, l'avrei fatto per altri, avrei lavorato per altri, insomma già questo è destabilizzante. Ma se, come dire, per il bene del comune avrei fatto anche questo, ma questo non è accaduto, quindi a poche ore siamo pronti a scendere in campo e insomma ad essere candidato al sindaco. Oggi è importante poi governare un comune con una mentalità di territorio e io credo che dobbiamo lavorare così con gli altri sindaci, ci sono tanti amministratori bravi nel nostro territorio ed è il momento di fare un consiglio comunale di tutti i sindaci o tutti gli amministratori di questa terra così importante e così bella, l'agro sarnese nocerino. Noi credo che San Marzano possa dare una mano per questo motivo ai tanti comuni che ci sono e i tanti comuni possono dare una mano a San Marzano che deve riemergere da questo stato veramente di abbandono. Quattro a meno di colpi di scena dunque i candidati con Andrea Annunziata che dovrebbe rappresentare l'area civica ed il centro-sinistra a contendersi lo scranno più alto di Palazzo di città, l'ex sindaco Carmela Zuottolo per Forza Italia, un altro ex sindaco Franco Grimaldi, espressione di un'aggregazione di centro e di centro-destra e l'ex candidata a sindaco Margherita Oliva, espressione del Movimento 5 Stelle che ribadisce quanto il ruolo all'opposizione arricchito dal confronto la spinta ad essere di nuovo protagonista della competizione elettorale. In questi anni le posso dire che il percorso politico compiuto soprattutto nei banchi di opposizione, possiamo dire che il banco di opposizione è come una sorta di pronto soccorso, quindi si vede di tutto, si può esaminare di tutto e questo ho fatto negli ultimi circa quattro anni. Questo percorso, arricchito anche poi da un sostegno di persone, da un confronto con le persone, quindi parliamo di ascolto e confronto, ha fatto sì che mi vedesse di nuovo protagonista in questa competizione elettorale. C'è stato un consenso popolare, ci sono stati amici che mi hanno scelto, mi hanno seguita, le posso dire tranquillamente che almamente ha fondamenti stabili. Ci sono amici che arrivano ai quali noi diamo il benvenuto, amici che se ne vanno ai quali noi auguriamo un buon cammino, ma noi restiamo con fondamenti stabili. Il nostro programma elettorale si sviluppa in sei punti e ritengo che sia un programma circolare, nel senso che economia, ambiente, economia, economia, ambiente, noi ci ritroveremo in qualsiasi punto.